Bentornati al consueto appuntamento con le notizie dal Consiglio regionale. Aperture festive degli esercizi commerciali della grande distribuzione e applicazione delle norme di trasparenza nella fase esecutiva degli appalti pubblici. Sono alcuni dei temi trattati in aula consigliare. Vediamo il servizio. Il Parlamento Lombardo ricorderà uno dei padri del pensiero federalista Gianfranco Miglio con un premio di laurea all'intitolazione di una sala al Palazzo Pirelli, così come richiesto in una mozione della lista Maroni. Ampio consenso anche a una mozione PD che chiedeva di promuovere un accordo territoriale fra imprese e parti sociali per concordare la chiusura dei centri e la grande distribuzione, almeno in alcune particolari giornate festive, visto che la situazione attuale ha provocato il peggioramento delle condizioni dei lavoratori, senza peraltro favorire la crescita economica. L'Aula ha poi approvato la mozione dei 5 Stelle che chiede di applicare le linee guida sulla trasparenza e la tracciabilità nella fase esecutiva dei contratti pubblici a tutti gli appalti della Regione e delle società del sistema regionale. E' eletto infine il nuovo difensore regionale, è Carlo Lio, ex sindaco di Cinisello e assessore regionale. L'Otta alla pedofilia e alla pedopornografia, anche il Pirellone celebra la giornata di sensibilizzazione con un convegno promosso dal Garante per l'infanzia. Vediamo. Due milioni di immagini segnalate alla Polizia Postale nel 2016, oltre 200.000 video, poco meno di 10.000 siti internet. Sono alcuni dei numeri impressionanti della piaga della pedofilia e della pedopornografia che trova terreno fertile nelle piazze digitali. Venerdì, per la giornata nazionale di contrasto a questi crimini, il Garante per l'infanzia Massimo Pagani ha promosso a Palazzo Pirelli un incontro con educatori, psicologi, avvocati, magistrati e giornalisti. Presenti la vicepresidente del Consiglio Sara Valmaggi e la vicepresidente della Commissione Consultiva Daniela Mainini. Il convegno ha messo in evidenza la gravità e le dimensioni del fenomeno, anche in Lombardia, e l'urgenza di mettere in rete in maniera ancora più stretta tutti i settori che si interfacciano con i minori. Battesimo in Consiglio regionale per la quarta categoria a calcio, il torneo a sette per squadre con atleti diversamente abili. Nell'occasione è stato proiettato il film Crazy for Football, vincitore del Davide di Donatello, dove protagonisti sono proprio i pazienti dei dipartimenti di salute mentale di tutta Italia. Il torneo, che si terrà a Milano da ottobre a maggio, è stato presentato durante un convegno a cui erano presenti Raffaele Cattani e Roberto Maroni, presidente del Consiglio e della Regione. Il presidente della FIGC Carlo Tavecchio e il cantautore Davide Vandesfros, che ospiterà una delegazione di questi atleti durante il suo concerto a San Siro. Dopo la valsella nel Parco delle Orobie, le sponde dell'Adda a Lodi, è stata inaugurata in Lombardia la seconda cattedrale vegetale, idee e progettualità, arti in nature, del compianto artista lodigiano Giuliano Mauri. Lombardia, realizzata tutta in quercia, rappresenta un vero e proprio duomo dedicato alla natura. Si sviluppa su 1618 metri quadri, altra 18 metri, lunga 72, larga 22,48 metri. Un tempio che inneggia la fratellanza, che esiste tra luogo la sacralità della terra, che si esprime attraverso la vegetazione. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti.